Nell'agosto del 2022, finalmente Shin-chan, me and a professor on summer vacation, è uscito in Europa su Nintendo Switch, Steam e PlayStation 4. In questo video vorrei raccontarti perché la sua uscita è così interessante per gli appassionati di giochi giapponesi e aiutarti a intuire se anche a te può piacere allo stesso modo. Naturalmente senza spoiler particolari sulla trama, anche se riprende i personaggi del manga e dell'anime di Shin-chan non ti serve conoscerli per apprezzare il gioco, visto che è una storia completamente a sé stante. Piuttosto puoi considerarlo come un capitolo alternativo della saga di Boku no Natsuyasumi, creata da Kazu Ayabe, di cui ti avevo già parlato nel video sui giochi giapponesi per la prima PlayStation. Di solito in questi giochi vivi le vacanze estive di un ragazzino che va a trovare qualche parente o amico nelle campagne della provincia giapponese. Immagina di esplorare prati e boschi attorno a un piccolo villaggio, passare i pomeriggi giocando con gli altri bambini in qualche base segreta, pescare nei fiumi e collezionare insetti nascosti sotto qualche sasso. Purtroppo tutti i giochi della saga principale di Boku sono rimasti solo in Giappone e stiamo aspettando ancora una traduzione amatoriale. Per adesso questo episodio con Shin-chan è l'unico tradotto e pubblicato in occidente insieme all'altro capitolo alternativo, Attack of the Friday Monsters, che era uscito su Nintendo 3DS nel 2013. Se in Friday Monsters c'erano i kaiju e i supereroi, in Boku Shin-chan ci hanno messo i dinosauri e i loop temporali, così per rendere ancora più stramba la tua esperienza. Nel gameplay immaginalo come un mix tra Animal Crossing e Zelda Majora's Mask, o meglio ancora un gioco della stirpe Love Delic. Non ci sono infatti enigmi, nessun combattimento o neanche dungeon da completare. Boku Shin-chan è un gioco rilassante, incentrato sulla esplorazione della natura e sui dialoghi con gli altri personaggi che incontri. La vacanza di Shin-chan dura una settimana, con l'orologio interno del gioco che fa passare il tempo, e un giorno dura qualche decina di minuti della tua vita reale. Dopo qualche ora arrivi alla fine dei sette giorni e la famiglia di Shin-chan torna in città, e devi quindi salutare tutti i nuovi amici che hai incontrato in campagna. Però in una sola settimana non riesci a risolvere tutti i loro problemi e i misteri del villaggio. Per fortuna qui iniziano i loop temporali e per vari motivi della trama Shin-chan torna indietro nel tempo e ricomincia la sua vacanza dall'inizio, anche se cambiano molte cose. Ad esempio dopo il primo loop si aprono delle nuove zone della mappa, appaiono dei nuovi personaggi e cambiano alcune delle situazioni. In questo modo hai anche più tempo per scoprire dove si nascondono tutti i pesci e gli insetti per la tua collezione. Come per Boku, quello che mi è piaciuto di più in questo gioco di Shin-chan è naturalmente la sua ambientazione. Per me esplorare un paesino virtuale in mezzo alla campagna giapponese esprime tutta la meraviglia e la nostalgia di uno spazio-tempo che non ho mai vissuto direttamente, però che in qualche modo fa parte del mio immaginario dopo averlo visto decine e centinaia di volte in film, anime e manga. Ho fatto anche un grande sorriso quando ho letto il messaggio che appare dopo l'introduzione, dove il gioco ti invita a sentirti libero di fare quello che vuoi tra i suoi paesaggi naturali. Naturalmente non puoi fare qualsiasi cosa ti viene in mente, però è un bel consiglio su come approcciarti al gioco andando in giro dove vuoi senza fretta né obiettivi precisi. Insomma, proprio come erano le stati quando eravamo bambini. Nel gameplay, dopo aver fatto colazione con tutta la famiglia di Shin-chan, sei libero di esplorare la campagna fino a sera. Cammini lungo le rive dei fiumi per trovare un nuovo punto dove pescare, raccogli erbe e lamponi, oppure osservi con attenzione tra gli alberi per notare qualche nuovo insetto da catturare. A seconda dell'ora del giorno si trovano anche delle specie diverse. Passeggiando nel villaggio incontri invece gli altri abitanti, sia adulti che bambini. Se gli parli ogni giorno scopri come si evolvono le loro storie tra un loop temporale e l'altro e magari gli aiuti anche a risolvere i loro problemi. Ad esempio c'è un ragazzo e una ragazza che si piacciono, però sono troppo timidi per dirselo. E parlandone ogni giorno con Shin-chan, piano piano si convincono ad aprirsi l'uno con l'altra. Queste storie proseguono in parallelo alla trama principale e a volte si incrociano anche tra di loro, senza che tu debba risolvere enigmi per andare avanti, ma solamente con l'interesse di ascoltare quello che dicono. Puoi anche lavorare per il giornale del paese inserendo foto e articoli su quello che hai visto durante il giorno e in questo modo gli aiuti a vendere più copie. In pratica una simulazione di piccolo giornalista. Ogni tanto per strada incontri i dinosauri e alcuni di loro ti aiutano portandoti ad esempio velocemente in altri posti della mappa oppure raccogliendo per te le verdure nell'orto. Se hai fretta puoi anche correre tra una schermata e l'altra e Shin-chan lo fa calandosi i pantaloni e mostrando il culo per aria. Visto che il tempo è limitato, prima che mandino letto Shin-chan, nel gameplay c'è una certa pianificazione strategica delle tue azioni. Ad esempio se ti interessano le storie dei personaggi, allora appena finita la colazione vai subito in giro a parlare con tutti quelli che incontri. Però così ti rimane poco tempo per il resto. Al contrario se preferisci ingrandire la tua collezione di pesci e insetti, allora lasci perdere i dialoghi e corri invece tra i prati e i ruscelli per vedere cosa riesci a catturare prima di sera. Come da tradizione della saga, anche qui c'è un mini gioco dove puoi sfidare gli altri bambini. E questa volta è un gioco di morra cinese, però con i dinosauri che combattono e delle carte collezionabili per migliorare le loro abilità. Conoscendo già la serie di Boku e avendo finito Friday Monsters su 3DS, più o meno sapevo già cosa aspettarmi da Boku Shin-chan. Oltre alla sensazione di nostalgia per la libertà e la natura delle vacanze estive quando si era bambini, con l'età adulta comincia a notare anche un certo fascino per l'immaginario dei genitori. Ad esempio il papà di Shin-chan che fa il bagno insieme ai suoi figli dopo una lunga giornata di lavoro. Oppure la vicina di casa che la sera si mette sul portico a leggere le storie con i suoi bambini. Senza dimenticare alcuni dialoghi sul rammarico per le occasioni mancate in gioventù. Insomma dietro l'estate dei bambini c'è un certo sottofondo di commozione e malinconia che senti sempre più forte quanti più anni sono passati da quei momenti della tua vita reale. Devo dire che una cosa che mi ha sorpreso è la questione dei loop temporali. Sapevo che gli altri episodi di Boku si giocano più volte perché non si riesce a vedere tutto in una sola settimana di gioco. Però non mi aspettavo che in Shin-chan mettessero proprio un loop temporale esplicito nella storia. Naturalmente da fan dei paradossi temporali è una sorpresa che mi è piaciuta molto. Questo sistema forse lo rende più lineare visto che alcuni luoghi o personaggi sono disponibili solamente nei loop successivi e quindi non puoi scegliere tu in che ordine vederli. Un'altra cosa che mi è dispiaciuta un po' è che il gioco non è in italiano. Di solito preferisco giocare in inglese però se anche tu hai amato il cartone animato di Shin-chan nella versione italiana allora sai che aveva un adattamento divertente e sarebbe stato bello trovarlo anche nel gioco. Se sei arrivato a vedere questo video fino a qui e ti interessa giocare a Boku Shin-chan vorrei darti qualche consiglio per una vacanza ideale nelle sue campagne giapponesi. Naturalmente giocalo senza fretta nei momenti di relax perché non è un gioco d'azione pieno di cose da fare ma è invece un'esperienza tranquilla e contemplativa. Nel gioco c'è anche un'opzione per velocizzare o rallentare il passaggio del tempo e all'inizio puoi lasciarla a velocità normale così la prima settimana ti dura 3 o 4 ore e poi sblocchi i loop successivi dove si aprono le nuove zone della mappa. A quel punto puoi scegliere le giornate più lunghe nelle opzioni così hai più tempo per parlare con tutti i personaggi e catturare pesci e insetti. In entrambi i casi tieni conto che il gioco salva solamente la notte quando Shin-chan va a dormire quindi con le giornate più lunghe devi aspettare più tempo per salvare. Comunque se non puoi continuare a giocare basta mettere la switch in modalità sleep. Direi anche che vale la pena giocarlo con l'audio nelle cuffie infatti i rumori della natura sono molto molto curati e per calarti nella parte di un bambino che esplora la natura non c'è niente di meglio che ascoltare le cicale e il rumore dei ruscelli direttamente nelle orecchie. Se ti interessano le storie dei personaggi parlaci sempre due volte di seguito perché dopo il primo dialogo ne hanno un altro dove dicono delle cose in più. Poi quando ti muovi con Shin-chan la sua barra della resistenza si abbassa e se è troppo stanco sviene a terra e poi sua mamma lo riporta a casa facendoti però così perdere alcune ore della giornata. Tieni quindi sempre d'occhio questa barra e quando sta per finire mangia uno dei cibi che puoi comprare al negozio del paese così la ricarichi. Ci sono anche delle merendine con dentro il regalo una bustina con le carte dei dinosauri che sono importanti da collezionare se vuoi vincere i tornei di morla cinese contro gli altri bambini. I premi di questi tornei sono molto utili per il gameplay però non ti spoilerò quali sono. Per comprare queste cose ti servono comunque dei soldi e il modo migliore per averli è raccogliere erbe, pesci e verdure che poi rivendi ai vari negozi e ristoranti del villaggio. Poi ultimo consiglio la sera dopo cena puoi girare ancora attorno alla casa di Shin-chan per parlare con vari personaggi e trovare alcuni insetti e pesci notturni. Quindi anche se vorresti salvare non ti conviene andare subito a letto. Come abbiamo visto nel video sui giochi giapponesi per Nintendo 3DS ormai se un autore come Kazuo Ayabe vuole creare un gioco deve usare personaggi di qualche serie famosa di anime oppure manga altrimenti non gli danno i soldi per farlo. Nel caso di Boku non è un problema, infatti molto del fascino per le campagne giapponesi lo abbiamo assorbito proprio da anime e manga. Poi i personaggi di Shin-chan si sposano molto bene con l'atmosfera spensierata di questa saga. Comunque prossimamente farò un documentario di fuori orario videoludico sulla vita e i giochi di Kazuo Ayabe. Intanto mi auguro che con questo video sia riuscito a farti intuire qualcosa su Boku Shin-chan. Ci tenevo a parlartene visto che la pubblicazione di un gioco di questo tipo in occidente è un evento più unico che raro. Io per finire la storia in tre loop temporali ci ho messo circa 15 ore però non ho trovato tutti i pesci e gli insetti. Per il momento è disponibile solamente in digitale e per il mio budget costa un po' troppo rispetto a quanto pagherei un gioco non fisico. Questo però è uno dei pochi casi in cui ci tengo a supportare nel mio piccolo l'uscita di un gioco di nicchia, visto che in occidente saremo in pochi a comprarlo e ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Così magari in futuro ne vedremo degli altri tradotti. In Giappone credo che Boku Shin-chan abbia venduto abbastanza copie e dopo la chiusura di Japan Studio non sembra che Sony sia interessata a finanziare altri giochi di Ayabe. Quindi sarebbe bello se creasse dei capitoli alternativi dedicati a vari anime o manga. Ad esempio ci vedrai molto bene un Boku per Sunny di Matsumoto oppure per 20th Century Boys di Urasawa. Comunque se anche tu giocherai a Boku Shin-chan sarò felice di leggere i tuoi commenti qui sotto. A presto e grazie per l'attenzione. A presto e grazie per l'attenzione.